Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori ci sono 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandici, in direzione Mare un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. Sulla A1 ci sono rallentamenti per lavori in direzione Roma tra Valdichiana e Fabbro. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano con chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!